Ciao a tutti, in questo primo video tutorial procederemo all'installazione di una Vodafone Station nel caso in cui sia stata richiesta l'attivazione di una nuova linea fissa Vodafone. Innanzitutto, una volta aperta la confezione, inserisco la SIM Vodafone nell'Internet Key. Inserisco l'Internet Key nella Station e collego la Station alla presa di corrente. Collego il telefono alla Vodafone Station tramite il cavo contrassegnato con la fascetta grigia, inserendolo da una parte nella porta Phone 1 della Station e dall'altra alla presa del telefono. Collego poi il PC alla Station attraverso il cavo contrassegnato dalla fascetta gialla. Lo inserisco da una parte nella porta gialla della Station e dall'altra nella porta dedicata del mio computer. Ora posso accendere la mia Vodafone Station. Una volta accesa, dopo pochi secondi si illumineranno l'icona Power, LAN e Internet Key, tutte di colore blu. Cosa significa se l'icona dell'Internet Key è di colore rosso? Se l'icona dell'Internet Key è di colore rosso, controlla il corretto inserimento della SIM all'interno dell'Internet Key. Nel caso in cui la SIM sia stata inserita correttamente ma l'icona rimanga di colore rosso, significa che la SIM non è ancora attiva. L'attivazione avverrà automaticamente entro 48 ore, oppure potrà essere anticipata attraverso l'apposito servizio presente su assistenza.vodafone.it. Quando la SIM è attiva, posso da subito telefonare, ricevere telefonate e navigare in Internet. Per quanto riguarda la connessione Internet, in questa fase, all'apertura del browser sul computer, viene visualizzata una pagina che consente di connettere e disconnettere utilizzando la rete mobile di Vodafone. Nel caso in cui la pagina non appare, devo digitare la urla Internet.page. Al termine della navigazione, poi, è sempre meglio disconnettere. Per quanto riguarda il telefono, invece, in attesa del tecnico che porterà o abiliterà il doppino telefonico all'interno della casa, il numero con cui effettuerò e riceverò le chiamate è un numero fisso provvisorio. Ora che il tecnico ha portato la nuova linea, collego la Vodafone Station alla presa del telefono tramite la porta ADSL, utilizzando il cavo in dotazione, contrassegnato dalla fascetta rossa. Quando la nuova linea è attiva, si accende l'icona ADSL della Vodafone Station e si spegne quella relativa all'Internet Key, anche se rimane inserita nella Vodafone Station. L'avvenuta attivazione della linea ADSL ed il mio numero di telefono fisso definitivo mi verranno inoltre comunicati via mail e via SMS. Da questo momento sarà attivo anche il numero fisso definitivo associato alla linea ADSL, con cui verranno effettuate e ricevute le chiamate. Alla prima connessione Internet, il browser visualizzerà una pagina in cui scegliere un PIN. Posso perciò scegliere un codice PIN composto da sei cifre e potrò richiedere che il sistema lo memorizzi per non doverlo reinserire ad ogni connessione successiva. Ora ho la possibilità di registrare la mia nuova linea telefonica al sito Internet di Vodafone o associarla ad una registrazione già esistente. In questo modo potrò successivamente gestirla e avere informazioni quali ad esempio il dettaglio delle chiamate. Da questo momento l'attivazione della nuova linea è conclusa. Per qualsiasi problema posso rivolgermi ad assistenza.vodafone.it